Si chiama Art Bonus, il sistema di incentivi fiscali per un privato che decide di fare donazioni per il restauro di un bene culturale, con un credito d'imposta del 65% in tre anni. Ad introdurlo il decreto legge cultura varato dal governo, che secondo il ministro Dario Franceschini rivoluzionerà il rapporto tra pubblico e privato nella cultura. È un provvedimento che cambia radicalmente e positivamente molte cose del settore cultura. Sono misure urgenti, come abbiamo detto ieri in conferenza stampa e come ha ripetuto questa mattina il Presidente del Consiglio, anche secondo le procedure che questo governo positivamente ha cercato di introdurre e vuole seguire, cioè arrivare ai provvedimenti attraverso un procedimento di consultazione. Queste sono le misure urgenti, non sto a dirvi quanta urgenza c'è sulla tutela del nostro patrimonio monumentale e artistico, ma sono un primo passaggio di un disegno più complessivo che porteremo nella forma di un disegno di legge. E' appena terminato un percorso di consultazione dei marimondi che si occupano di cultura. Vi è libera anche il raddoppio del tetto massimo al tax credit per le produzioni cinematografiche, dai 5 ai 10 milioni di euro, all'istituzione di un commissariato per la riforma dell'Enit e all'assunzione di 20 progettisti per Pompei. E' stata inoltre commissariata anche la Regia di Caserta ed è stata istituita una cabina di regia per la Regione Calabria.